EcoKiller è il nuovo insetticida ad alta efficacia che rispetta l'uomo e l'ambiente. La sua formula cuosa, priva di gas propellenti, si può spruzzare direttamente sulle superfici interne ed esterne dell'ambiente da trattare, senza lasciare macchie ed odori. Il risultato è una difesa integrale da ogni tipo di insetto e parassiti. Una protezione attiva per molte settimane, ideale per l'uso domestico e familiare. EcoKiller è un presidio medico-chirurgico. EcoKiller, gentile con l'ambiente, spietato con gli insetti. In cucina EcoKiller è una barriera efficace contro pesciolini d'argento, scarafaggi, formiche, cimici, mosche e tarme degli alimenti. Per una maggiore azione disinfestante, sgombrate le dispense e, dopo averle pulite, irrorate EcoKiller in profondità. Lasciate asciugare e rimettete a posto. Spruzzate EcoKiller direttamente sulle superfici esterne degli angoli difficili da raggiungere. Non dimenticate di trattare preventivamente anche le zone sotto il lavello, vicino alle tubature e alla patumiera. Applicate EcoKiller con un getto uniforme ben distribuito su tapparelle, cassonetti, veneziane, telai di porte e finestre. L'irrorazione del prodotto è facilitata dallo speciale ugello regolabile, che vi permette di ottenere un getto più diffuso per le applicazioni ravvicinate e un getto più concentrato per operare da lontano. Per il soggiorno consigliamo un trattamento con EcoKiller su divani, tappeti e ogni tessuto che potrebbe ospitare formiche, tarmi, ragni. È particolarmente efficace contro gli acari della polvere. Nebulizzate il prodotto cuscino per cuscino di divani, poltrone e seduti in genere, avendo cura di trattare anche la base e le restanti strutture. Ricordatevi poi delle superfici prossime ai punti luce, tipiche aree d'attrazione degli insetti volanti. Applicate EcoKiller in ogni altra zona giorno della casa, incluso l'ambiente di soggiorno o di ricreazione dei bambini. Nelle stanze dei bambini, EcoKiller può essere spruzzato su tappeti, tendaggi, tessuti, oltre che sulle superfici dei complementi d'arredo. In questo modo i vostri cari saranno protetti per lungo tempo da acari della polvere, formiche, zanzare e mosche. Ricordiamo che EcoKiller, perfettamente in odore, è un prodotto sicuro per la salute. Nella zona notte EcoKiller è efficace contro acari, formiche, tarme dei tessuti, tarli, mosche e zanzare. Applicate EcoKiller direttamente su tende e tappeti, cuscini, materassi, sulla struttura del letto e negli interstizi tra materasso ed imbottiture, intorno alle finestre e sulle zanzariere. Per proteggere i vostri abiti da tarme e altri insetti infestanti, trattate l'interno degli armadi e guardaroba con un getto ampio e uniforme, indirizzandolo prima sulle strutture e poi intorno agli abiti. In bagno e in ogni locale dedicato all'igiene personale, il trattamento con EcoKiller previene efficacemente la presenza di formiche, ragni, scarafaggi, pesciolini d'argento e tutti gli altri insetti striscianti, spesso annidati vicino alle tubature. Spruzzate EcoKiller sotto ed intorno ai sanitari, su piastrelle e pavimenti, dietro ad armadietti e su pellettili, avendo cura di raggiungere anche gli angoli più nascosti. In solaio, come in cantina, in garage e nelle rimesse adibite a magazzino o ripostiglio, EcoKiller completa la protezione della vostra casa da pulci, zecche, zanzare, ragni, vespe, tafani e cimici. Spruzzato in prossimità delle zone frequentate dagli animali domestici, EcoKiller si rivela una valida difesa contro pulci, zecche, zanzare, zanzare-tigre, tafani e altri parassiti pericolosi per la salute dei vostri piccoli amici. All'aria aperta, EcoKiller può essere errorato su serramenti, persiane, attorno alle porte e finestre, trattando ogni fessura dove gli insetti possano entrare o moltiplicarsi. Contro mosche, zanzare e zanzare-tigre può essere applicato alle grandi superfici di verande, portici, sottotetti, a tutto l'arredo da giardino, nei tombini, nei sottovasi ed in tutti i luoghi dove ristagna l'acqua. EcoKiller è efficace anche sul tronco degli alberi, sui muri o sulle siepi del giardino, in ogni luogo dove si concentrano gli insetti. Potreste iniziare, ad esempio, dalla legnaia, classico rifugio di tarme, forbicine, ragni e vespe. Non trascurate di trattare preventivamente anche barbecue e forni in muratura, per evitare ospiti indesiderati alla prossima grigliata. EcoKiller, l'insetticida ad alta efficacia per tutti gli ambienti della casa contro ogni tipo di insetto. EcoKiller, gentile con l'ambiente, spietato con gli insetti. EcoKiller, gentile con l'ambiente, spietato con l'ambiente, spietato con gli insetti.